Il Garden è un luogo da vivere per grandi e per i più piccoli. In questo periodo per gli adulti abbiamo la Flory Academy, ovvero una serie di corsi, in questa stagione tematizzata a Natale, dove ad esempio parleremo di come addobbare un albero, oppure di come preparare una tavola per il giorno della vigilia, o di come andare a creare un centrotavola. Una serie di iniziative che potete trovare sia sulle nostre pagine social oppure venire a prenotare direttamente qui in Garden. Invece per i bambini avremo tutta una serie di iniziative che renderanno ogni weekend magico. Quindi il sabato pomeriggio e domenica, tutto il giorno, ci saranno Babbo Natale nella sua casetta che aspetterà i bambini per la consegna della letterina, la slitta di Babbo Natale dove fare una foto o un selfie, come ricordo, e poi la dolce cavallina all'interno del presepe con una location completamente rinnovata, quest'anno tematizzata con delle piccole casette a stile nordico. Avremo poi una serie di laboratori più e più piccolini. Regaleremo un narciso per ogni bambino, il quale potrà piantarlo all'interno di un vasetto e aspettare pazientemente la fioritura nel periodo primaverile. E poi la scrittura della letterina all'interno del laboratorio dedicato con l'aiuto degli elfi per poi consegnarla direttamente a Babbo Natale. E poi l'immancabile laboratorio dell'alberino, dove ci sarà la possibilità, sempre con l'aiuto dell'elfo di Babbo Natale, di piantare un alberino in un vaso di terracotta e mettere insieme il primo addobbo. La novità di quest'anno è che oltre ad essere arrivato Babbo Natale abbiamo anche il Grinch. I due molto spesso tendono un po' a litigare, si fanno scherzi a vicenda, ma il Grinch è assolutamente molto contento di aspettare i bambini tutti i sabati pomeriggio e domenica pomeriggio. E per chi ci segue da tempo si sarà chiesto che fine avrà fatto il presepe. Quest'anno ha un'ambientazione tutta sua, più calda, un pochettino più intima, dove potrete ammirare un presepe con figure a grandezza naturale. Vi aspetto al Garden Center Florio per vivere l'atmosfera natalizia perché siamo aperti tutti i giorni e tutti i giorni sarà Natale, ma i weekend saranno magici. Grazie a tutti!